è venuto giù tutto trovato un disco volante siamo nell'area 51 qua trovi di quei pezzi figaro cazzo è sempre peggio eh vedi fra un po' lì non ci passiamo più ho visto il video che magari sono un po' più larghi non ci passi già più po' questa rota bisogna buttare giù quelli li che passano sopra figaro tutti attaccati questi porca vacca mezzega un altro po' un altro po' un altro po' un altro po' basta questa roba qua scaverà sempre si si la mano diventerà più facile si se la riempie un po la cosa di cemento vabbè è brutto quelle tue rocce se non ci passi dalla moto ma qua è un modellato si qua si qua la mano è tutta di staccia anche qua questa c'è se non venga di un altro pezzo di